È possibile ipnotizzare in pochissimi secondi una persona? Si può esercitare una forza ipnotica così forte da ottenere un risultato immediato? La risposta è sì, ma è impossibile imparare attraverso un testo scritto. E sono poche le scuole al mondo in grado di insegnare efficacemente queste tecniche. Solo con l'ausilio e la guida di un maestro è possibile imparare queste metodiche. I corsi di ipnosi istantanea dell'ISI-CNV tenuti direttamente dal dottor Paret promuovono un insegnamento pratico della materia ed assicurano un'assimilazione dei concetti e dei fenomeni totale ed immediata. E allora, cosa aspetti? Entra anche tu nel magico mondo dell'ipnosi e scopri insieme ai corsi della ISI-CNV come ipnotizzare in pochissimi secondi una persona. Grazie. Grazie.